Upas, trame al 16 dicembre, Camarota dalla fidanzata si avvicinerà ad Alice. Continuano le vicende dei protagonisti della celebre so partenopea Un posto al sole. Nel corso delle puntate di Upas che andranno in onda dal 12 al 16 dicembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Nunzio deluso da Chiara comincerà ad interessarsi ad Alice. Lì a riuscirà ad individuare il ladro del suo tesoro di famiglia e comincerà ad avere problemi sul lavoro. Bianca a sorpresa scoprirà che dietro la pericolosa challenge si nasconde proprio Antonello e per aiutarlo finirà nuovamente nei guai. Bice continuerà ad interessarsi a Castrese, mentre Sasa deciderà di mettere alle strette Bufalotto ed incontrarlo. Tra Viola e Rosa si accenderà nuovamente lo scontro. Nunzio deluso dal comportamento di Chiara comincerà a mostrare interesse per la piccola Alice. Alberto comincerà ad indagare sul prezioso tesoro ritrovato nel suo seminterrato. Curioso di scoprire a chi apparteneva. Lì ha una volta scoperto chi è stato a mettere le mani sul suo tesoro di famiglia. Comincerà ad avere delle reazioni nervose e inaspettate che finiranno per metterle in serie difficoltà anche sul lavoro. Viola dopo un nuovo incontro con Rosa, avrà un duro scontro con la donna perché sarà molto gelosa e infastidita dalla sua presenza. Lì ha convinta di aver individuato il responsabile del furto del suo tesoro di famiglia comincerà a vivere momenti di forte tensione anche con Diego. Raffaele e sua moglie cominceranno a valutare le conseguenze della separazione tra Viola ed Eugenio. Proprio quando Damiano ringrazierà ancora una volta l'insegnante per tutto l'aiuto che sta dando a suo figlio Manuel e per avergli segnalato in tempo tutte le problematiche che il bambino sta affrontando. Bianca scoprirà con sorpresa che il suo caro amico Antonello è l'organizzatore della web challenge. Marina comunicherà ad Alice la sua intenzione di voler trascorrere il Natale a Londra. Ma la sua nipotina non accoglierà con entusiasmo la proposta della nonna, decisa a rimanere accanto a Nunzio. Salvatore comincerà a mostrare la volontà di voler conoscere il suo bufalotto della chat. Mentre Bici si interesserà sempre di più a Castrese. Per Antonello arriverà il momento di affrontare la realtà e fare i conti con il suo comportamento scorretto. Il ragazzino coinvolgerà ancora una volta Bianca causando una forte preoccupazione in Franco e Angela. Tra Nunzio e Alice comincerà a crescere una dolce sintonia, ma i due saranno del tutto ignari delle sorprese che li attendono. Bianca decisa ad aiutare Antonello a tutti i costi finirà in serio pericolo. Continuerà anche la guerra tra le Altieri e le Cirillo. Mentre Michele deciso a sorprendere Silvia e Rossella nel periodo natalizio farà loro una proposta ancora ignota. Liric vorbinti ajungă la ea doar nasta cu racheta. S'o admire nave spaziale de pe Andromeda. Ăsta-i țelu, îl execuți ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textu-i plin de dude. Tu mere tante printre dalea culte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite. Cum rup capete lumea dă din capă rupte. Obele bat cu inima deodată nu le oprescă. Nu s'atât de nebun mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine. Fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un... Să ne vedem la următoarea mea rețetă.